Sforamenti di PM10 sono all'ordine del giorno in molte città italiane in questo periodo invernale. Non è esente da questo anche il Baldarno che con la sua centralina Arpat installata a figline incisa misura i livelli di polveri sottili disperse nell'aria. Dopo lo sforamento del 30 novembre, dicembre si è chiuso con sei sforamenti registrati. Il limite fissato a 50 microgrammi per metro cubo è stato superato anche il primo gennaio. Nell'arco di un mese dunque sono stati otto gli sforamenti dei limiti di smog consentito. Causa di questo i riscaldamenti accesi ma anche il traffico delle auto, da non sottovalutare anche l'inquinamento dato dai botti di Capodanno che oltre ad essere pericolosi producono anche smog appunto. Va meglio invece ad Arezzo che nel mese di dicembre ha fatto registrare in tutte e due le centraline piazzate in zona Acropoli e Repubblica cinque sforamenti del limite consentito. A Firenze si sente probabilmente l'effetto tranvia e il transito dei veicoli elettrici che pian piano si stanno facendo largo tra le strade. La centralina piazzata nel Viale Gramsci, strada tra le più trafficate della città, ha registrato solo, si fa per dire, sette sforamenti nel mese di dicembre con il primo gennaio di poco al di sotto del limite massimo. I dati dunque testimoniano come per una zona fortemente meno densa rispetto ad Arezzo ma soprattutto Firenze e appunto il Valdarno lo smog sia superiore. La vallata ha bisogno di politiche dedicate all'ambiente e di incentivare la mobilità elettrica oltre che quella pubblica. Il problema dello smog soprattutto nel periodo invernale non è da sottovalutare. Adesso una possibilità di cambiare arriva anche dalla manovra di governo con gli incentivi fino a 6.000 euro per l'acquisto di veicoli meno inquinanti fra i quali anche GPL, metano ed elettrici.